Ben trovati con le previsioni dal tempo a cura di Mediocalabria.net. Continua ad affluire aria fredda da nord sulla nostra regione, responsabile di note instabili e temperature sotto le medie del periodo. Martedì 16. Al mattino piogge e rovesci possibili sul basso Tirreno con nevicate sui monti fin verso i 1100 metri di quota stabile altrove. Successivamente dal pomeriggio ci attendiamo diffusa variabilità con fenomeni probabilmente più insistenti su Pollino, Crotonese e Interno e Sela Piccola, nevosi oltre 1000 metri. 20 moderati dei quadranti nord-occidentali su Tirreno e Passo Ionio, da nord sul Medio Alto Ionio. Martireno molto mosso, poco mosso lo Ionio ma con motondosi in accentuazione dalla sera. Temperature stazionarie. Condizioni di variabilità anche per mercoledì 17 marzo a tratti è localmente instabile su Bassa Calabria, Pollino e Sela. Possibili deboli navigate sui rispettivi rilievi. Temperature in ulteriore leve calo. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.